Allora, secondo te quanto ci mettiamo? Due ore Due ore, temo anch'io Vediamo dietro cosa dico Secondo voi quanto tempo ci vuole? Due ore e mezza Due abbondanti Due abbondanti, sono d'accordo anch'io Voi cosa dite? Due e mezza, a mezzogiorno arriviamo in Croazio Siamo quasi a cinque ore Secondo te quanto ci mettiamo? Tandissimo Tandissimissimo Ragazzi, cosa abbiamo visto fino adesso? Di tutto Allora, uno che sta ritornando indietro Sta facendo il retromarcia dall'altra corsia E non sappiamo come si è entrato in autostrada Poi c'era quello che vendiva il pop corn Però si è messo sotto un cavalcavia così non si bagna Visto che viole Ok E poi c'è il giustiziare della notte Quello con il pick up Adesso lo inquadriamo Non si può girare Non si può girare il telefono Allora, il giustiziare della notte è quello là col pick up Arancione Arancione Che non fa passare nessun'automobile dalla corsia d'emergenza Si mette in mezzo E se qualcuno vuole passare Mi dice No, non passi qua Fai la coda come gli altri Ah, ci siamo dimenticati Liberty Run New York Liberty Run Sta correndo avanti e indietro Grande Tra un po' arriverà Ciao Sta facendo allenamento Più che altro Gli farà molto bene Da un punto di vista di polmoni Respirare questa l'aria pulita E da almeno due chilometri Dalla frontiera Calcolando che siamo arrivati a tre chilometri Alle nove Alle ripetute E sono le 10.58 Abbiamo fatto circa un chilometro in due ore Che è una forte media Anche tardi Giammazza Non potrei vedere che cosi c'è Ma non 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 c'è Bicchiare Aggiornamento delle 12.41 12.41 Siamo ancora qui allora siamo quasi alla frontiera serba mancano ancora dieci macchine e sono passate quattro ore e venti ragazze il primo pezzo l'abbiamo fatto adesso vediamo se entrare in europa allora ragazze siamo quasi a cinque ore e siamo finalmente alla frontiera croata cinque ore per fare un po più di tre chilometri chiamando.com 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 chiamando.com